Dopo la riforma, le province si sono ritrovate con 4 miliardi l'anno di euro tagliati, ben più dei costi di manutenzione di strade e scuole. Il presidente della Regione Toscana lo ha ricordato durante la sua partecipazione ad un convegno della CGL a Firenze dal titolo Disordinamento Istituzionale. Presenta l'iniziativa anche la segretaria generale della CGL, Susanna Camusso. Per quanto riguarda le province, la Regione, ha detto il Presidente, è disponibile a lavorarci insieme ai comuni per trovare una soluzione. Ma stamani si è parlato anche di regionalismo e federalismo perché è necessaria una riforma più organica. Per il Presidente della Regione l'obiettivo è quello di puntare ad una forma di federalismo cooperativo. Per la CGL la soluzione è no all'autonomia, ma sì ad un federalismo che punte ad un dialogo con il Governo. Il federalismo che vuol dire però il senso dell'unità dei diritti dei cittadini, dei diritti del lavoro, dei diritti della salute e quindi la gestione di un processo federale che non è la differenziazione dei sistemi e dei trattamenti ma è la costruzione di un sistema cooperativo. A proposito delle province, il Presidente della Regione ha ricordato che la Toscana è stata la prima in Italia ad approvare la legge regionale di attuazione della Del Rio, un cambiamento epocale che ha visto il trasferimento in regione di circa 1.100 lavoratori. La prossima partita sarà ora quella dei centri per l'impiego al cui riguardo il Presidente si dice favorevole ad una loro internalizzazione.